Eccoci qua, buongiorno a tutti, oggi voglio tornare a presentarvi questo bellissimo cucciolo segni particolari bellissimo e quasi tutto bianco si è sviluppata soltanto una macchiolina qui sul dorso mentre abbiamo sugli orecchi un pochino di limone quindi un cucciolo quasi completamente bianco quindi io in 25 anni non ho mai avuto cuccioli di questa colorazione e ne sono veramente orgoglioso ed emozionato poi un'altra cosa molto importante è che questo cucciolo presenta un tartufo molto ben pigmentato già all'età di 55 giorni, ora sto registrando il video quindi considerate che questa è una caratteristica veramente insolita perché a volte possiamo trovarci cuccioli con il tartufo rosa e allora quello diventa un difetto invece qui abbiamo un tartufo molto ben pigmentato e il cucciolo praticamente completamente bianco quindi assolutamente un soggetto unico nel suo genere io vi ringrazio e vi auguro buona giornata